Non so che ci prendi Non so che ci prendi Oryx, un HP No, Valkyrie 1 di vita È morto In office Prendi il def planta, prendi il def planta Sì, ancora in office Office, office Ti prendi la shield e mettiti fuori No Ok Non peccare Alla adesso, va bene Just go to the E che fa il ricarico secondo te? Posso dire mangiato intellettualmente?